Buongiorno a tutti e soprattutto buon anno a tutta la community, vi ringrazio perché molti di voi nei commenti mi hanno scritto, io ho risposto a tutti ma gli auguri ho preferito farli in questo video in modo che ovviamente siano rivolti all'intera community anche chi non ha potuto o non ha voluto scrivere nei commenti perché sono giorni impegnativi questi delle festività natalizie soprattutto in un paese come l'Italia che normalmente festeggia tante volte da prima di Natale a dopo l'Epifania. Però siccome questo è un canale finanziario e io amo molto il cinema comincerò con una citazione di un film che a me sta molto a cuore che ovviamente è un'ottima annata perché per buona parte è ambientato nella mia adorata Provenza e il protagonista interpretato da Russell Crowe in una delle battute più significative del film dice Max Skinner non va mai in vacanza per cui vi condivido subito lo schermo e questa mattina perché anch'io avevo staccato qualche giorno nel senso due giorni fondamentalmente quando leggo chiuse Borsa Americana, Borsa UK, Svizzera, Australia, Singapore, Giappone, Hong Kong, Sudafrica, Canada, Cina, questa dovrebbe essere Nuova Zelanda. Insomma diciamo che potevamo anche noi prolungare la festività del primo di gennaio anche perché già scambiamo poco oggi sicuramente scambieremo pochissimo. Comunque ci siamo alzati quindi cerchiamo di essere produttivi e vediamo che l'unico dato ritenuto significativo per oggi è l'indice di direttori gli acquisti del settore manifatturiero in Germania alle 9.55 atteso 47.4 io comunque darei uno sguardo anche all'indice PMI manifatturiero in Europa dato a 47.8 come stima. Non credo che comunque vista la giornata semifestiva perché quando borse come UK e USA sono chiuse e noi purtroppo scambiamo davvero poco ci siano dei movimenti incredibili nella giornata di oggi. Per quanto riguarda invece le notizie price sensitive qualcosina c'è, non troppo ma qualcosina c'è. Allora diciamo che qualunque cosa possiamo ovviamente trovare oggi non comunque condizionerà a mio avviso l'andamento di mercato perché i volumi saranno probabilmente davvero molto risicati. Una prima notizia riguarda SNAM ed ENI, le due società comunicano che si sono avverate le condizioni per realizzare la partnership sui gasdotti Algeria e Italia e il closing è previsto entro metà gennaio. Come vi ho detto già nel video sull'auto 2023 ENI secondo me sta pagando ancora poco la riduzione del prezzo del petrolio quindi io è un titolo che comunque continuo a aspettare anche sotto 13 perché potrebbe anche tornare fino ai minimi del 20 di dicembre che sono stati a 12,792. SNAM che invece ha già dato un segnale secondo me negativo a partire addirittura dal 15 dicembre in questo caso il target è almeno area 4,40. Enel intesa San Paolo penso si legga Munei perché è doppia O società di pagamenti che fa capo ai gruppi intesa San Paolo ed Enel partirà col suo servizio di telepedaggio entro il primo semestre 2023. Ha detto sabato al messaggero Salvatore Borgese General Manager Commercial and Banking Services di Munei. Allora in questo caso Enel forse l'avevamo già vista però la riguardiamo un attimo è in questo trading range e credo che oggi soprattutto ma probabilmente di qui fino all'epifania assolutamente possibile che lo mantenga livello sotto il quale non deve scendere direi minimo del 10 di novembre che è 4,8205. Sotto abbiamo la media mobile a 100 molto vicino a 4,797 poi probabilmente un target a 4,68. Vedendo questi grafici sono sincero un grafico come Enel non mi voglio far connezionare a quello che per esempio è un grafico di SNAM che è ritenuta comunque giustamente appartenente al settore utilities ma mi sembra più una distribuzione. Per quanto riguarda intesa invece c'è stato un bel recupero da area 2 adesso si è messa in laterale poco sotto 2,10 il minimo della congestione di breve 2,067. In questo caso mi sembra che invece al di là del fatto che probabilmente continuerà a stare in laterale potrebbe anche rompere al rialzo. Comunque in ogni caso scusate 2,061 perché consideriamo il minimo del 21 dicembre come minimo della congestione. Però se rompesse anche al rialzo direi che non oltre 2,20 2,21 e 75 può andare il titolo. Poi abbiamo una notizia su Jeffran anche qui però non particolarmente significativa perché è vero che è una cessione. La controllata Jeffran sia i drivers technology ha concluso un accordo con WEG Automation Equipment per la vendita dell'attivo ramo di azienda cinese per 2,98 milioni di euro su un totale complessivo d'accordo per la cessione del business azionamenti pari a 23 milioni di euro. Diciamo che meno di 3 milioni per Jeffran non sono una cifra clamorosa. Il supportone per me è 8,15 il minimo di questa candela importantissima del 6 di ottobre. Il titolo si è indebolito per cui bisogna veramente attendere una correzione ulteriore. Diciamo che il primo livello importante è il minimo del 28 dicembre che è 8,36 però 8,15 sarebbe ancora meglio. Vi voglio far vedere dalle notizie regolamentate l'ultima notizia importante secondo me sono andato a ritroso che è questa. Magari era scontata perché comunque sarebbe stato un terremoto per Anima però prosegue la partnership con Credit Agricole nel risparmio gestito fino al 2027. Mi interessa molto questa notizia perché ho visto un po' di interesse nelle ultime sedute dell'anno su Anima per cui teniamo a monitor il titolo perché se dovesse rompere 3,776 addirittura c'è spazio, sì qua c'è un 3,79 e 3,792 ma diciamo che ci può essere spazio fino addirittura a 4,072. C'è poi anche una notizia su Star 7 per un'acquisizione, però ecco Star 7 è un titolo che io non faccio perché al di là del fatto che è abbastanza difficile capire i movimenti perché tanti giorni scambia poco o nulla, è una società che comunque capitalizza davvero poco e quando ci sono dei volumi di scambio così bassi anche io che faccio come sapete molte small cap se non micro cap, soprattutto in una fase di mercato come questa molto illiquida, passo volentieri la mano. Per questa mattina abbiamo concluso, noi ci sentiamo questa sera dopo la chiusura del mercato diurno, non facciamoci del sangue marcio se oggi purtroppo molto probabilmente ci dovremo girare i pollici ma come vi ho spiegato con le principali borse mondiali chiuse è facile che in Europa si scambi davvero troppo poco. A più tardi, buon trading a tutti ovviamente.